Qual è la cosa peggiore in assoluto che pensi e ti possa capitare nella vita? E perché porta l'occhiale da sciatore? Quando Raffaele, la fanpage e me proposero l'idea di fare questo spin-off, io accettai, perché pensavo che scherzassero. Era proprio palese la cosa. E invece, eccoci qua. Che cosa ci insegna questa storia? Che non si dovrebbe crescere in una community se si hanno evidenti problemi psicologico-relazionali nella vita. Altrimenti poi succede che ti viene la voglia di fare quasi gaming e la fine è questa. I link al progetto della fanpage li trovate qui sotto in descrizione. Fanno un lavoro impagabile, che infatti coerentemente non viene manco pagato, purtroppo mi dispiace. E tra le tante cose che fanno, però, hanno fatto anche questa cosa qui. Hanno tirato fuori questo file, per il quale io credo di doverli ringraziare. Anche se in realtà non ne sono del tutto sicuro, perché penso che mi si possa ritorcere contro. Mi sento in questo momento come un assicuratore che ha appena firmato la sua prima polizza milionaria nella vita. E' contento, soddisfatto, poi però piglia tutti gli incartamenti, legge il nome di nominativo, di beneficiario e trova Mr. Leonard, Anthony Kawai. Ecco, diciamo che io non è che ho proprio la postazione da reaction di Dario Moccia. Io al massimo ho l'accento di Dario Moccia, ma non la postazione. Quindi siamo, io da stamattina all'otto e ci studio, va bene, su come fa a funzionare questo aggeggio. I file, i computer, il microfono, la foto non funziona, una mazza. Una mazza funziona. Mac, OBS, Apple, Gnosa, eh? Comunque ora dovrebbe funzionare, spero. Quindi già si comincia male, già belle subito la foto lì che a me mi mette ansia. Cominciamo, si dovrebbe sentire. Io non so a cosa vado incontro, lo vedo ora per la prima volta insieme a voi. E va bene, dai, forza. Eh, tanto erano poco forti sotto canestro, giusto? Aggiungiamo, aggiungiamo. Erano poco forti. Ah, questo è, queste sono una compilation di tutte le estrazioni mefitiche negli anni. Va bene, ok, quindi qui sono già passati diversi anni. Ma pronti via? Così, pronti via. No, no, è un incubo. Eh, ha voglia. Ma com'è possibile? È possibile, è possibilissimo. Io ho detto Hunter e questo non ce la posso fare. Ah, perché i pelicans lì c'avevano Hunter e lui, capito? Chip e chop. Eh, è qui quando si pescava noi, quest'anno. Ma è un ricordo. E qui rimasi zitto, se non mi sbaglio. Mi sbaglio? No, no, zitto, zitto. Così. Senza di nulla. Io facerò questo fermo immagine per cinque minuti. Senza tagliare. E ce lo lasciai davvero, tipo, eh? So se ce l'ha messo nel montaggio. E poi lo ripescarono loro. E ora vi voglio vedere. E tra l'altro noi stiamo... Noi settimana prossima si gioiavano contro di loro. Sembro fare Enzo quando vince a Mugugnà sotto sotto. Io sbuffo. È così. Breve apparizione che ricordiamo con la reaction della reaction. Che cos'è questo? Perché non so se avete visto chi era questo. Che ha preso questo tiro. E che l'ha sbagliato. Eh? Non so se l'aveva... Ha venuto anche la tosse. Guarda a me. Già dai primo anno, ragazzi. Questo è un'inception di... Una reaction della reaction del Super Saiyan, del Super Goku, del Super Poteri, del Super... Andiamo avanti. Stagione 2. Breve apparizione. Vai, vai così. Dritto per dritto. Mi cavo. Jonathan Isaac. Segna. Subisci il fallo di Wendell Carter Jr. Che è nuovo arrivato da loro. Non ci ha capito niente di dove è capitato. E Danny Green ne ho detto... Ma non ci aveva niente. Nessun ammennicolo. Il bracciolo, il porzino, l'occhiale, la fascia, il fucile, le pinne, l'occhiali. Non ci aveva niente ancora ancora. E sta fatto come Birdman. Ha cominciato liscio e poi si è super accessoriato con l'andare degli anni. Volevo dire, ora c'è Wendell Carter Jr. Che non ha capito... Vedi, vedi però, è intelligente. Ha visto Steven Adams e ti aspetta, io la do via perché qui non è roba per me. Ci sarebbe ancora Bobanone contro Wendell Carter Jr. Prima, seconda, terza spallata, gli va via. Due, come Roberto Chiaci. Come Roberto Chiaci. Attacca, l'alza, per Wendell Carter Jr. Che è sempre il nostro infiltrato, si recupera il possesso. All'inizio, all'inizio io pensavo che lui fosse... Che giocasse in realtà... Che in realtà fosse un buono, capito, della storia. Che giocasse per noi e quindi fosse un buono della... Poi ho capito che invece era ancora più subdola la situazione. Stagione 3 è l'inizio di un lunghissimo e terrificante incubo. Perché in stagione 3, se non mi sbaglio, lui ci fu per tipo tutta la stagione. Una roba di genere. È un po'. Veramente? Ma veramente? Rimbalzo in attacco, single shot in un movimento solo di Wendell Carter Jr. È un altro di... E qui già cominciavo a scandire. Perché fino ad ora era Wendell Carter. Qui già cominciavo un po' a scandire. Perché quando uno scandisce, capito? ...giungano alla lista di Mirzap e tutti gli anni loro li pescano, li fanno giocare. E Mirzap si pescava. Io perdo il cervello. Ragazzi si è difeso bene per tutta l'azione. Non ci si merita questo canestro. Dramond dove sei andato? Va bene Tyler Irro. No! Irro era il 21. La tripla di Wendell Carter. Guardalo. Guarda che immagine. Guarda non volendo dove l'ho stoppato. Irro era il vento. Non riuscivo a capire. Irro. Top Gun. Cinese. Squid Game dei fatti. Quello ti riesce bene. Basta. Ragazzi si sono fatti accendere i piedi a Wendell Carter Jr. Rendiamoci conto di come siamo messi. È rimasto di... Hai visto però come era... Qui se c'era una giustizia gli viene portato via anche il capo oltre ad essere stoppato. E non succederà. Ma hai visto come erano belli i piedi accesi dell'epoca. Con il fuochino sopra. C'era solo il fuoco. Sono accesi i piedi. Il fuoco. Non è che ora ci metti le scarpe da ginnastica, il sedano, la fascetta e che ora c'è ogni osa acceso. Prima che fuoco. Adesso sei rimasto dietro l'hai chiappata di capo da Wendell Carter Jr. È una partita difficile a livello tattico. Ragazzi, ragazzi Wendell Carter Jr. Fare Hamata nella realtà. Hamata. Che giocatore era Andrea Hamata. E qui lo scandimento, lo scandinavo, lo scandì, eh? Era già a un livello importante. Questa difesa vale la partita. Siamo avanti. 35 secondi alla fine. Il controllore contro De Rosan. Poi il depresso. Il blocco. Passa dietro il controllore. Grande difesa. Grande difesa. Ma guarda. Wendell Carter Jr.? Chi è quello della chi ha panica? Comunque se fai fa' quella roba lì a Wendell Carter Jr. Ti meriti no. Guarda, sapeva Steve Kerr. Ti rendi conto con tutte le disgrazie di allenatori che sei avuto in tutti gli anni? Qui sapeva Steve Kerr. Ti meriti proprio la rimozione coatta dai campi di pallacanestro. Da un mettici proprio mai più piede. Qualcuno che rientri. Qualcuno che rientri. Ma Wendell Carter Jr. Questo è il Drammond. Guarda, guarda. Io penso che questa cosa si commenti da solo. Noi si fa sembrare un giocatore questo qui. Si è stoppato da solo. Si è colpito da solo come Pokémon. Così confuso da colpirsi da solo, ma non solo si è stoppato. Si è anche poi cappottato e catapultato per terra arrantolante dopo essersi stoppato. Ha raggiunto delle vette. Mancano otto secondi, ci si fa fa' anche questa? No, perché c'è già Rangetson Jr. C'è come Wendell Carter Jr. Chi era il nostro lungo? Ma sei Wendell Carter Jr. E quello è tuo, cosa la manca? Ma ti pareva che gli potevi fa' canestro? Qui le osse cominciavano a cambiare. Qui, qui il vento... Perché sei rimasto intrappolato. Ogni blocco si è fatto pigliare il rimbarcio e si è fatto fare canestro a Wendell Carter e anche Jr. Però guarda che è stato un grosso rimbalzista offensivo. Il nostro tagliafuori era latitante. Però è stato un grosso rimbalzista offensivo. Non mi ricordavo questa caratteristica. Un pochino più vicini. Sarebbe un mismatch. Quello è Wendell Carter Jr. Che è il miglior giocatore della partita. Poi dici, gioco, è fatto bene. 80 euro. Sai quanti fronti di basket c'è un bravo cinese con 80 euro? Questa cosa dell'80 euro mi è rimasta. Passano gli anni, ma questa cosa dell'80 euro mi è rimasta. E quest'anno li spenderò anche per non avere niente in mano dal punto di vista fisico. Quindi mi sale ancora di più i pantorche. No della partita Mark Zuckerberg. Non so se batterà. Sbullonato fino in fondo. Si è fatto stoppare da Wendell Carter Jr. Ma quanti soldi gli dà Orlando alla scena? Sei acceso il depresso. Così proprio per mettere in chiaro le ose di come dovrebbe andare normalmente la partita. Qui accetta il cambio difensivo. Ancora lo sbullonato lo costringe a un brutto tiro. Ma guardalo. Allora questa cosa defini. Questa nella realtà pare De Sagana Diop. De Sagana Diop. Ma era enorme De Sagana Diop. Comunque qui pigliava rimbarci in attacco. Mi stupisco perché quest'anno che si è avuto noi non facevamo neanche quello. Giò di De Sagana Diop. Ma si sta scherzando. Ma mi prendete in giro. Sei rimasto dietro a Wendell Carter Jr. Qui c'era questa cosa. Che quando andavi sotto e avevi un'azione tipo da canestro sicuro, da schiacciato, una roba di genere. Ti veniva una specie di pozzanghera verde sotto a piedi. Non mi dispiaceva devo dire. Ti ci devo mettere contro per farti difendere. Ciccio bello. Barba, il Barba ragazzi non fa prigionieri. Hai visto il Barba? Camierierata proprio sulla mano di... Ragazzi noi stiamo facendo sembrare un giocatore Wendell Carter Jr. Onestamente, sinceramente parlando. No, 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 no. No, Wendell Carter, no. Ma ti pare possibile che uno debba perdere un campionato per Wendell Carter Jr.? Il gioco da tre punti gli si è fatto fa'. Io non mi ha capacitato. Io veramente non ci voglio reddere a quello che è successo. Stagione 4 una lunghissima agonia. Quindi più lunga della 3. Stagione 4, il colpo di scena è Wendell Carter Jr. Masarappo su quattro anni su quattro Wendell Carter Jr. E ancora non sapevo che sarebbero stati cinque su cinque. Chiudere su un anni, chiudere su un anni. Eh però Wendell Carter Jr. addirittura a rimbarzo gli si fa chiappare in attacco. Hai visto... Dustin, Dustin, Dustin. Dustin, ragazzi noi... Hai visto che qui già cominciava, vedi, la fascetta. Però mi sembra che ancora non c'abbia l'occhiale asciatore. Sono quattro anni che si sta facendo sembrare un giocatore Wendell Carter Jr. No una partita, quattro anni. E ero già alla fase ultima della rassegnazione. Cioè lì mettevo... Qui già cominciavo a mettere in piedi tutto il trascorso di anni e anni. Non mi riferivo più alla singola azione, alla singola partita. Qui era proprio... Quattro anni si fanno le Olimpiadi, eh. Comunque rimanere dietro a Wendell Carter Jr. L'occhiale! L'occhiale da asciatore! Tra l'altro avete notato, qui era il gioco dove improvvisamente, senza motivo, si accendevano tutti i piedi di tutti i giocatori della scuola. Così era un momento di piedi accesi. Questa non c'è stata più quest'anno. Le boiate vanno alternate, come le cortivazioni dei campi. Un anno ci fai le zucchine, l'anno dopo ci fai la melanzana, capito? E qui è uguale, di boiata in boiata bisogna... Ognoro sui taglio, manco buche dei bei tempi. Buche. E purtroppo noi siamo attaccati a questo qui. Proprio ancorati come l'ultima speranza. Peccato, eh, Wendell. Ti hai fatto fai... E la figlia ride. Che vuoi fare, bravi? Saresti il difensore dell'anno, eh. Io non te lo volevo dire. Sei stato piccionato. Come se niente fosse! Che tempi erano! Il difensore dell'anno era smart! E io potevo dire a uno saresti il difensore... Hai capito? Wendell Carter Jr. Come si fa a giocare a questo giochino? Bravo, Bolbol. Bolbol. Eccoci. E su un passaggio consegnato improvvisamente in Cina si accesero tutti i piedi. Tipo, guarda, questo non sa giocare a palacanese. Bravo, Zehennaji. Mieti vendetti. Zehennaji! Che poi in realtà questa non è una reaction. Questa è una rievocazione storica dei personaggi che il giocatore era Zehennaji. Ragazzi, io capisco che possa sembrare un mismatch, ma questo non sa giocare forte a palacanestro, eh. Vedi? Ragazzi, ragazzi, questo è Wendell Carter Jr. Banchero. Ma anche nel 2023 noi si fa a palacanestro a Wendell Carter Jr. Questo deve essere stato tipo il primo episodio del 2023, dell'anno, a gennaio, perché se no non avrete... Guarda, guarda, guarda questa altra come piglia di rimbarsi. Li valeva proprio desto 80 euro. E questo era proprio... Se gli fate fare un'altra canestra a Wendell Carter Jr., perdi il cervello. Ho la manina proprio. Il cervello, il cervello. Finci! Ma a me viene da piange. Ho bisogno di un 4 che mi fermi... Mi rendo... Mi sento proprio a disagio a doverlo chiedere. Ma ho bisogno di un 4 che fermi Wendell Carter Jr. No, io non... Io non credo di facile arrivare a fondo all'anno, sì, eh. E comunque ho capito che è la posizione di 4 che è maledetta. Cioè, te ci puoi mettere chi ti pare. Noi ci si è messo Banchero, ci si è messo già Barry Smith, ci si è messo... Bada questo in che pezzi che è. Noi si è perso con questa gente qui. Capito? Il rimbarzo, ancora. Lato bianco. Non l'ha visto neanche Wendell Carter. Chi c'è? Nessuno. Tra due. Lato bianco. Quando si cominciò a mettere il lato bianco, la situazione cominciò a prendere un'altra piega. Mi ricordo di questo periodo, anche perché Banchero, quell'anno lì, che però l'anno scorso gli avevano fatto quei capelli a conocchia. Non l'aveva palesemente mai visto il cinese. Cioè, parlamosi proprio molto francamente. Lui l'anzio non l'aveva guardata, non l'aveva proprio mai visto. E quindi disse, ma questo Banchero, Paolo, conocchia e non sapeva già. E infatti gli stiacciavano in capo Wendell Carter. Vai, vai che ce lo trovi. Vai che ce lo trovi. Bono che ti aspetta. No, no. Ma c'ha dell'accordo di sponsorizzazione. Vende le patatine in Cina. Che cosa fa Wendell? Cioè, perché l'hanno fatto così, onestamente parlando, no? Perché anche andando a vedere le statistiche e le cose, non c'è motivo. Questo dovrebbe fare. Tutte le corte o di mezzo metro. Dai blocchi, Gordon Hayward, attenzione. Ah. È nostra. È bravo Wendell. Capito Wendell Carter Jr.? È nostra. Quindi lui l'ha preso in rimbarso e ha messo... Ma non un piede fuori. Dice, sai, quando riatterro, magari presto la linea col piede. È proprio andato fuori, ma di pella grande. Va bene. Beh, beh, beh. E c'è Willie Green e il Rito. Dice, avviso, io devo giocare con Wendell. Come vuoi a vincere con Wendell? Ti avisco, Willie Green. Ti avisco. Sceso dai purba. Ma che ci hai messo nell'importini primavera? Dove l'hai zuppato in Icognac, i cinese? Non ci puoi attacca. Non ci puoi attacca. Ci siamo persi Wendell Carter e anche Junior. Per favore, per favore. Vogliamo ristabilire un attimo... Quello è il bicchierone. Beh, bravo. Vedi? Esatto, perfetto. Non avrei saputo dirlo meglio. K, bisognerebbe però che tu... No, 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 no. Comunque, un grosso rimbalzista in attacco. Io sono sorpreso. E noi ci si perde. Ma perché, ora capisco, io la maggior parte del tempo, quando gioco a Wendell Carter e Junior, lo passo a offenderlo. E quindi le partite le guardo, ovviamente. Però poi, quando mi parte l'offesa, mi distraggo. E quindi non mi ricordavo che fosse questo rimbalzista offensivo. Il difensivo può essere problematico. Fortuna che ci sa Wendell. Ma non è vero, ragazzi. Non è vero. Quanto ti ha pagato Carter Junior per farlo forte così? Guardalo! Guardalo! Contro chi si perde? Noi! Contro uno che si stoppa con il tabellone. Chi ha fatto pagalo come Fantozzi. Noi ci si perde contro questa gente qui. Vale, ma questa... Questa me la ricordavo... No! Aspetta, perché qui c'è un back-to-back clamoroso. Allora, quella cosa lì me la ricordavo. Di lui che perde il pallone... che perde in vita mentre è lì che è... non si stoppa neanche. Fa proprio una roba... E poi la volta dopo si ripresentò così. Con l'occhiali da sciatore che lui ci va a giro. Vedi? Ci va alla hoppe con quei occhiali qui. Che la gente lo guarda e dice ma te, Polino, ti hai bevuto forte. E invece no. È proprio... Anche a letto con l'occhiali da sciatore. Ma perché gira con quei occhiali questo? Ma guarda che non è normale questa cosa qui. Poi dice io ce l'ho con... Ma capite bene che non si può che questo fai giro. Ma alla hoppe lui ci va con l'occhiali da sciatore. Vedi? Io ho questi riferimenti nella vita. Ma come fai a rimanere indietro a Wendell Carter Jr.? Io questa cosa che noi una volta a partita si faccia sembrare un giocatore questo qui. capito la beneficenza ma qui manco San Francesco. Più vicino e con questo è pericoloso. Occhio coi campi difensivi. Bada De Baio come switcha come gli dà noia. Nessuno che recupera si fa da Kai Ferro Wendell Carter Jr. La chiude? La chiude? No! La chiude Wendell Carter Jr. Peggio. Attenzione a questo picchierro l'attenzione bicchierro no no ragazzi se mi fate fa canestre e fallo subito per cominciare a Wendell Carter Balanchunas. Io qui poco di voce mi è rimasto la uso tutto per insurtarvi tu o tre o quattro generazioni a posteriori proprio. Qui c'avevo la tosse era il periodo della tosse e mi ho patito per fare questa stagione di quasi gaming. mi pare ragazzi anche un pochino di chimica di squadra bisogna cominciare a aiutarsi difensivamente a non fa canestre a Wendell Carter Jr. Ti senti? Ma è uno scherzo che cos'è uno scherzo questo frame della partita Carter Jr. ha copiato con barba spalla a canestre e non è la tosse lo schema provato e riprovato in partita capito? Quello che tira quell'altro che la chiapa con la nuca poi il passaggio dietro la testa nessuno che taglia fuori Wendell no vabbè noi si è perso per via di Wendell comunque io sono quattro anni e faccio lo stesso ragionamento che poi sono diventati cinque qui erano quattro è preoccupante questa cosa ma non c'è altro da dire io dico la stessa cosa perché non c'è altro da dire è imbarazzante fino in fondo lo scar ascorta bim bum bam sta stoppato Wendell Carter Jr. ragazzi male di bio manco le canzoni su Spotify riesce a stoppare nella realtà io non lo so come mai mi mi l'hai chiappata ogni capo da uno con l'occhiali da sci perché è la prima volta che furono citati l'occhiali del sciatore ora ci avranno sotto canestro niente poco di meno che Rudy e anche Gobert e poi Wendell Carter giù e questo è proprio no ma veramente ma loro avevano quella coppia lì Rudy Gobert e Wendell Carter Jr. insieme io avevo rimosso questa cosa ovviamente per protezione il mio cervello va in protezione in queste situazioni e quindi tende a no è incredibile una roba che è peggio di questa poi uno dice il contrapasso no e anche biondo l'hai fatto anche Scotti Barts è della famiglia di Bridges secondo me ascolta Wendell ascolta Wendell Carter Jr. ma l'hai presente ecco questo è il lato bianco non è tutti quell'altri che ti hai trovato fino a ora di sbaglio per la tua strada ragazzi noi si continuano a giocare con uno che ha l'occhiali da fresatore guardalo guardalo da fresatore è bello ma c'è ma va bene ma noi si chiapa la tripla da Wendell Carter Jr. è tornato addirittura anche Clay Thompson la tripla mi ha sempre dato noia perché il resto sai comunque è un lungo è artino è grossotto quindi a volte sotto canestro te lo perdi la tripla mi ha sempre dato particolarmente noia poi c'è un cambio difensivo è finito contro Wendell sei stato stoppato da Wendell Carter Jr. John Snow l'hanno spedito alla barriera per molto meno eh guarda hai addirittura l'occasione di redimiti da quest'altra parte se chiappi canestro esci non rientri mai più mai più come povero Clay Thompson eh però io già noi avevamo anticipato ai tempi quello che poi sarebbe successo pare David Bluthenthal guarda quest'altro neanche le righe di campo gli hanno spiegato a Wendell Carter Jr. si è difeso bene non ci si merita Sadique Bay non ci si merita Sadique Bay Carter Jr. si è difeso troppo bene non ci si meritano questi due punti non ci si merita non ci si merita neanche Wendell Carter Jr. anche perché anche perché non è un giocatore il Gabibbo potrebbe fare potrebbe fare quello che sta dentro il Gabibbo quello è l'unico lavoro che potrebbe fare questo è un bell'insulto quello che sta dentro il Gabibbo dovresti fare questo mi è piaciuto 4 su 4 dalla lunetta con una freddezza che manco Mattiaz Smodis dei bei tempi ciao Wendell Carter Jr. ciao oh oh perché mi dovete far patire fino alla fine scusate eh e allora siamo sul tetto del mondo due anni dopo alla faccia dello sciatore qualcuno qualcuno lo sci quindi gli dedicai la vittoria con questa uscita gli dedicai proprio la vittoria non c'era motivo di dire alla faccia dello sciatore perché si è vinto di squadra contro un'altra squadra però io avevo proprio abbiamo guarda vai vai sciatore reversa che roba da chiodi tanti prossimo anno non giochi te lo dico io prossimo anno non giochi io non pensavo speravo però stagione 5 perché con Excel e Wendell Carter Jr. non puoi avere niente a che fare tra riesce subito subito da vedere te non hai niente del centro che vorrei io non difendi non pigli rimbarzi non veniamo fuori che a meno è una roba intelligente che può valere per un centro non è un giocatore inutile però giocherai titolare con Rudy mi viene da piangere dell'insieme io non lo posso proprio vedere è una roba che guarda ma dove sei andato a aiutare chi fortunatamente è rimasto a Yeye questa cosa un minimo di soddisfazione me la lascia vediamo se il canestro è di là è da quell'altra parte il canestro almeno la direzione di canestro cominciai a indicargli il canestro partivo partivo dalle basi questo è dicesi pallone palla a canestro mettere il pallone dentro forse era meglio se ti addentravi e se ti avventuravi se l'alternativa doveva essere i pick and roll tra i lunghi come Duncan e Robinson ma manco un'unghia di Duncan e Robinson con step back di Murray non tira addirittura da da San Giovanni in Persiceto da San Giovanni in Persiceto si va da Wiggins e non ha fatto nulla ci sarebbe un mismatch ma non so a favore di chi in realtà ma veramente hai riaperto per la tripla di Rudy Gobert ma guarda questa era era una finezza perché sembrava un passaggio normale però se ci pensi un secondo te sei un lungo sei sotto canestro c'hai il possesso e riapri per uno che è fuori dalla linea di tiro e che è Rudy Gobert certo uno si potrebbe chiedere perché Rudy Gobert stava fuori dalla linea di tiro però però l'intelligenza scestistica di un tricerato parrosto ma come si fa con questa gente dice si è staccato il difensore io voglio e poi la è a panicavo piano piano no 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 però perché questa con loro per quattro anni l'ha sempre messa e con noi no guarda che questo neanche lui lo sapesse che non doveva giocare per noi posso dire no no maledetto il giornaccio che t'ho preso ha fatto la virata al contrario a parte che erano passi ma poi ma perché t'hai virato da quella questa la metterà e neanche la tripla lo vedi non gli sai portare neanche il blocco e nonostante questo guarda il tiro che t'ha costruito ma lo vedi il blocco di harter junior attacca la vorpe che poi gliela dà inopinatamente perché questo trova per quell'altri ma perché noi ci si deve avere trova l'intruso eh perché ci si deve avere l'infiltrato per quell'altri però vedi è tutto circolare tutto torna era partito e lui faceva l'infiltrato e si è chiuso e io non lo sapevo perché figure se me lo ricordavo stavi andando a canestro eri solo non ti avrebbe ripreso più nessuno c'hai 99 di velocità l'hai data a questo l'hai data a questo e questo non lo fa due su due io te l'assicuro lui ora picchietta picchietta sta a vedere picchietta picchietta secondo ferro poi gli metto pressione come vederlo guardalo guardalo no 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 hanno 13 secondi so eeeh poi hanno ripreso l'oro eeeh guarda per vendicarsi guardali per fare numeri e poi ha fatto come Gasol l'ha ripreso e l'ha ridata fuori però perché con noi non li pigliava a rimbarci in attacco l'ha presi per tutta la carriera di quasi gaming con noi no eeeh ma lo vedi ma lo vedi e gli penzolano proprio i capelli dalla fascetta ma c'è anche un altro piglio c'è anche perché quando giocava con noi lo vedevi che non era proprio lui capito che non è e invece ora fanno una coppia di capelli con lui e Banchero sotto canestro e non lo so come si vuole venire fuori Banchero è accoppiato contro la vorpe non è riuscito a fargli canestro neanche stavorta perché non sa giocare guarda che scirie è l'accoppiamento bono che viene bene lì sotto canestro la ricezione di gatto contro weee ciao ciao che momento incredibile è durato poco ma è stato un momento incredibile quando noi sapeva i gatto e la vorpe Fox e e Kat ciao e qui lo fa cintura nera di metà a posto le cifre a partita finita a babbo morto cintura nera di metà a posto le cifre a partita finita esatto io non dico più niente mi sembra la chiusura perfetta spero che sia definitiva della storia e dell'epopea di Wendell Carter Jr quasi gaming stagione 6 facciamo a capissi quasi gaming stagione 6 grazie a tutti Grazie a tutti.